Il rischio sismico in Nepal era noto che fosse altissimo e purtroppo uno degli elementi maggiormente a rischio, uno degli elementi maggiormente vulnerabili erano proprio le scuole. Per fortuna il terremoto è venuto in un orario in cui le scuole non erano utilizzate e questo ovviamente salvato la vita a tantissimi bambini, però ha lasciato ovviamente una situazione dell'edilizia scolastica terribile, da riparare e da rimettere in sicurezza. Dal punto di vista sismologico ci ha insegnato che il terremoto è un oggetto veramente un po' bastardo, nel senso che questo terremoto è venuto sulla faglia dove lo si aspettava, ha fatto prevalentemente danni sui terreni che si sapeva essere i peggiori, quelli della valle di Kathmandu e ha danneggiato gli edifici che si sapeva essere vulnerabili. Quindi ha fatto quello che ci si aspettava, l'unico problema è che è venuto troppo presto. I nepalesi lo sapevano, stavano lavorando molto bene per ridurre il rischio, soprattutto sulle scuole, purtroppo il terremoto è venuto prima che loro avessero completato il loro programma di sistemazione di adeguamento antisismico. La cosa importante che noi dobbiamo imparare da questo terremoto è che ogni giornata lasciata passare senza fare prevenzione è una giornata persa, è una giornata che ci ha avvicinato alla data del terremoto, lui sa quando è, noi no, e se non facciamo nulla da subito ogni giorno è un giorno perso. Loro avevano iniziato a lavorare, stavano lavorando bene, purtroppo non hanno avuto abbastanza tempo per mettere in sicurezza tutto quello che avrebbero dovuto. Purtroppo questi fenomeni, questi eventi naturali che poi diventano disastri naturali e poi colpiscono sempre i più poveri, i più sfortunati e che per effetto di questo diventano ancora più poveri e più sfortunati e quindi diventeranno ancora di più in futuro, se non si interrompe questo circolo vizioso diabolico, vittima di questi eventi. Cioè quello che abbiamo capito è che purtroppo il terremoto non è democratico, perché non colpisce in maniera proporzionale a quelle che sarebbero le possibilità di rispondere, ma colpisce in maniera inversamente proporzionale rispetto a questo. Qui è chiaro che il ruolo fondamentale ce l'hanno le classi professionali locali che vanno aiutate. Ora, nell'attività di prevenzione c'è ovviamente l'esigenza di fare azioni concrete, fisiche, come dire, di prevenzione, noi la definiamo strutturale, ma c'è bisogno di fare anche tutta una serie di azioni che sono preliminari a questa e insegnare, trasferire quelle conoscenze che noi abbiamo sul comportamento degli edifici, sul come per esempio il terremoto possa manifestarsi in forme diverse, per esempio legate alle caratteristiche del terreno e quindi tutta la scuola e l'esperienza grande che abbiamo nella geofisica, nella geologia in Italia, è secondo me un dovere ed è uno strumento importantissimo che noi dobbiamo fornire a questi tecnici che contiamo di fornire, anche se ovviamente dando un piccolo contributo nei limiti delle nostre possibilità, come si dice in questo caso, proprio per far sì che poi professionisti locali possano fare interventi, possono progettare interventi. Noi come OGS contiamo di portare giù anche con la collaborazione di alcune industrie che ce lo forneranno dei materiali che servono ai professionisti locali, soprattutto per la caratterizzazione dei terreni di fondazione, faremo un po' di corsi a del personale locale e poi gli lasceremo giù la strumentazione, oltre che fare delle indagini scientifiche nostre, soprattutto adesso stiamo cercando di sviluppare degli accelerometri a basso costo, però di buona qualità, che permettano un monitoraggio efficace degli edifici strategici in paesi a basso reddito, tra cui l'Italia, che sarà il primo nel quale li sperimenteremo. È fondamentale a queste persone insegnare a fare le cose bene con il costo più basso possibile, quindi coniugare la soluzione tecnica migliore con il costo minore possibile. La riduzione degli effetti dei terremoti è una corsa contro il tempo, quindi spendere di più in più oggi su una scuola significa differire o addirittura al peggio non consentire un intervento su un'altra scuola. E se nel frattempo viene il terremoto? In Nepal, per la messa in sicurezza delle loro scuole, il costo medio stimato dell'intervento di messa in sicurezza, bisogna capire loro cosa intendono per mettere in sicurezza, perché il concetto è relativo, può essere una sicurezza molto alta, un po' più bassa, però per loro mettere in sicurezza. Il costo medio è di 30 dollari per bambino. Sai quanto costa mettere in sicurezza mediamente una scuola di mille bambini in Italia? Costerà 2-3 milioni di euro. Allora tu capisci che 30.000 euro lì salvano la vita a mille persone. Allora ancora una volta, secondo me, in questi paesi bisogna veramente provare, cioè la comunità internazionale di tutti deve fare uno sforzo. Perché poi veramente, diciamo, l'analisi costi-benefici rivela che è un piccolo investimento per quelli che sono, diciamo, gli standard nostri, perché per loro per 30.000 euro, che sono una cifra enorme, a un piccolo investimento corrispondono benefici altissimi, elevatissimi. Non ci vorrebbe molto per risolvere il problema. secondo me, non ci vorrebbe veramente molto. Un po' pizzico, pizzico più di generosità e di dignità da parte dei paesi cosiddetti più evoluti, che sono solamente più fortunati. Non è che sono più evoluti. Un diritto, e la Costituzione italiana lo dice in maniera esplicita, è importantissimo che noi dobbiamo garantire a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, appunto il diritto ad imparare, a studiare, a costruirsi un futuro. Ovviamente tutto questo però va fatto in condizioni di sicurezza e io non trovo altrettanto garantito in modo esplicito, segnalato in modo esplicito nella Costituzione italiana il diritto alla sicurezza, come invece è ricorrente stabilire quanto sia importante il diritto all'istruzione. E quando questo diritto alla sicurezza deve essere in qualche modo garantito all'interno di una scuola dove ci sono soprattutto dei bambini, ovviamente noi questo non lo dobbiamo far pesare a questi bambini, cioè non gli dobbiamo far vedere il diritto alla sicurezza come una sorta di spauracchio, di preoccupazione, di chissà che cosa possa accadere. Tutto sommato la probabilità che accadano cose brutte è sempre molto piccola, però non è zero. Allora, noi cittadini, noi genitori, noi persone adulte, che peraltro siamo le responsabili principali di quello che oggi è il paese, dobbiamo fare in modo tale che tutto venga fatto in modo da garantire a questi bambini la sicurezza e anche il diritto alla spensieratezza. Però perché questo accade naturalmente dobbiamo porsi il problema prima. Quindi bambini spensierati con genitori pensierosi, altrimenti questo non si potrà fare.